Vieni che vai, ora fa nato Le forze è vigente la casta Dalla braccia alla braccia dipendo Se la tatti l'allaggia ti vido Estrago una spada da forni Non per l'ignorio, ma non mi aggredo I miei calmesini vorrebbero Casper accogli un mondo sto floio Sono un argolo a maggior, non mi capino in angolo il floio È piccolo da questo, non so di Chiterra Non è che il tuo floio Tanti assento le voci, che non sono pochini Corri, doio, doio Il freddo è stato amasto, un letto di fiamme è il tuo materasso La tua parola non vale più, accenditi il fuoco, spegniti tu Si vedi le cose che predico, è una fine che non mi merito Non c'è la verità, perché sono il tuo sogno eretico Io sono il tuo sogno eretico, capiti lo sogno eretico Io sono dominicano, ma non chiedermi come mi chiano Qua è sicuro che non me la gano, mi mettono a fuoco, non come la gano Se senti potenti della città, è detto sua santità Un uomo carico d'avidità, che vende cariche come papà La tratta dei pimpi, come grisce, cresce tutto il grano Nessuno ne fa, 24 ore, anno zero E non mi chiedere, non mi peggiano, mi afficcarò, non venga da raccaffo tanto Di me rimarrà il futuro di genere davanti a dare in alto Se ne riparo, lo raggiungi, us사vi i libri di TV Era meglio mettere su, dica vuole e va Mi dici maimi a far che predico, alla fine che non mi merito Non c'è la verità, perché sono il tuo sogno eretico Io sono i tuo sogno eretico Io sono i tuoi sogni eredito, io sono i tuoi sogni eredito, io ti non sono i tuoi sogni eredito Infine mi chiamo come furbe, come attenzio con lui, mi chiamo come furbe Posti, posti, puoi, mi creda che porti in un sciolino Nella c'era il ghetto, perché tra fine del letto ho stato subito Io mi adappo già bello, se non lo sassi, mi mancheri di rispetto Il tutto brolla come mossa, la bella della mossa, la bella è bella asa Il processo è la fase, adesso mi tocca attaccare la bocca, mi chiede con i tuoi Lasciate giudito, invece di fare una stana, il campo dei fiori Di tutto ciò che predico, è una fine che non ti merito Non c'è la regalettità, io non sono i tuoi sogni eredito 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 Nienti, non sono i tuoi sogni eredito Grazie a tutti Ciao a tutti Tutto bene? Tutto bene? Nonostante il periodaggio, tutto bene? Ebbene questo è l'Eretico Tour 4, detto l'estinzione perché io mi estinguerò come è successo con i dinosauri anni fa come è successo con tutti gli eretici sapete benissimo che i eretici si sono trovati tra due fuochi quello dell'intelletto e quello della religione sì, un XL dovrebbe andare bene bene, ci sono trovati tra due fuochi quello dell'intelletto e quello della religione molto spesso hanno lasciato quello dell'intelletto tu vuoi attaccare i bottoni? e molto spesso sono finiti su un terzo fuoco lago nel pagliaio ecco perché noi stasera abbiamo deciso di fare una scaletta un po' troppo rock un po' molto rock perché volevo lasciare un po' il segno di là non potendo iniziare subito con un pezzo molto rock visto che siamo vestiti da sarti ho preferito iniziare con un pezzo rocchetto e direi... suonino alle campane suonino alle campane non sai cos'è una tasca in da basca il bus è un'aspa in cui ogni peccato è programmato full del pascal io te la perquisisco a mo' di cashfa ci trovo a pizzi basca pizzi nell'angolo più di pizzi rasca a me cazzo di difese a me cazzo è un po' con l'attore la tua sacca hai l'alito di grado ma d'acqua la pappa come già un burrasca spongerai all'inferno come di me una frasca in tasca vesti la mano per il teca piano ma cosa sei si metta l'aroma se ti avvano un po' stile e zanne ma mio caro hai denti d'andaro con tutti i mezzi ti si fa pensi più del meccano se portatore insano di tasca ti conviene confessare che con le mani in tasca puoi protestare un anno nella cella il posto dove stare perché adesso noi comandiamo dall'est all'ovestare ti avvano che con le mani in tasca nemmeno in tasca nemmeno in tasca nemmeno in tasca io so che cosa faccio nemmeno in tasca nemmeno in tasca posto a ventisi in vaso dei vasati in mese a vaticano coppie di fatto entroncano le parti parte allaterano mentre i gradi blatteravano contro noi in ogni foro c'era una sovrasoluzione come per il volume quattro coppie al cuore riposo in pace il referendum in secula seculorum scomunicando il nome di io un libro di da un brano sul pio retto di rischio dando l'avvio ad un'era di messa a morte la gozza d'andrea rivera passando per Harry Potter il refugio di volantini soffersivi o costretti ad adottare metodi repressivi quindi fiato sul collo c'è la gallera per chi porta le tasche perché nelle tasche non c'è foto non tree non sei cosa come pot Santo ter riposo ternate po mille tant mille da quel momento chi porta una tasca o è una tista oppure un tossico o entrambi come bastia gente a cui basta fare il contrario come bastiam per darsi più aria di quante ne abbia composte parte parte per questo sei stato arrestato tu prendi nella pavola della libera tasca di libero stato camillo penso sei sbagliato l'unica libertà se quella che sta sullo suo crociato ripetiamo nomine libertatis vincula edificamus nomine libertatis vincua edificamus nomine veritatis mendacia e ferivus nomine libertatis vincua edificamus nomine libertatis vincua Grazie a tutti